che finisce nelle mani di Strumbis, Strumbis fuori ancora per Lever, per Ruzier che forza al tiro sbaglia, rimbalzo in attacco però è di Trieste con Pesano ancora, non è iniziato niente in quest'azione, Delfino allora prende il pallone, la dà a Tambone, tre secondi al tiro, palla per Visconti da tre, la tripla di Ricky Visconti, Kravic ancora per Moretti, blocco di Kravic, Moretti si butta dentro, alza la palla per Kravic che da sotto va a realizzare subire anche fallo, oggi Kravic devo dire rispetto alla media delle ultime partite ancora l'anticipo di Pesano, la palla è per Rachman che va in contropiede, schiaccia Mohamed Ali, Abdur Rachman, Trieste con Bartley, sfrutta parzialmente il blocco di Terry ancora Bartley si butta dentro, si libera di Cittam, tira, sbaglia ma va a schiacciare Lever ma non riceve, allora Ruzziere ancora, esce addirittura in close out anche Kravic Lever si butta dentro, bellissima giocata di Lever, 13 punti, Ruzziere si butta dentro al tiro da sotto, l'errore, rimbalza in attacco di Spencer che le prende veramente tutte al tiro da tre, va a mettere la tripla, Lever avrà anche il tiro libero aggiuntivo Lever veramente, Pesano ha terminato il bonus mentre Trieste ha un fallo di squadra Bartley ancora, porta il blocco, il suo compagno di squadra, poi grandissima penetrazione di Bartley Tambone accelera, blocco di Totte, Moretti si butta dentro, al tiro, il canestro, il fallo grande giocata molto volitiva di Moretti che mette il tredicesimo punto il tiro libero aggiuntivo, termina così anche il bonus per Trieste rivediamo il replay, Davide Moretti parte in accelerazione, fallo su di lui di Bossi Visconti al tiro da tre, non va, rimbalzo di Moretti che la dà, Kravic, Kravic scarica per Tambone che si butta dentro per Kravic che va a schiacciare, grandissima giocata partita da una parte all'altra, sono due italiani e questo è bello, Lever per Trieste fa vedere, riceve Moretti alto, porta il blocco Kravic, Moretti accelera, fallo su di lui tiro canestro e fallo, Moretti 16, avrà il tiro libero aggiuntivo a spingere Ruzziar su Moretti, vedete che però ha la forza d'animo c'è anche Dei per Pesaro in campo, Moretti per Visconti, al tiro da tre la tripla di Ricchi, Visconti, otto punti per lui Rachman la dà, Kravic, Kravic vede il sopraggiungere di Moretti allora endoff, palla consegnata ancora a Kravic che si butta dentro, segna sembra davvero che possano andare invece a questo punto a Pesaro finisce qua con la vittoria del Carpegna Prosciutti per 94-83 meritata la vittoria della squadra di Jasmine Repesa nelle file di Pesaro